Finisco alle quattro. Passo a prenderti? No, non posso stasera. Ti scoccia? E domani? Non lo so ancora. Può darsi che debba lavorare. Bene, beh, d'accordo. Ci sentiamo. Scusami. Ah, signor Legherne, che piacere. Buongiorno, signora Bortolaine, come sta? Bene, bene. Voleva parlarmi di mio figlio? Ah, no, no, tutto bene. Sono venuto per Jennifer. Ah, che peccato. Ha chiesto il permesso di uscire prima. Alle quattro, credo. Vuole che controlli? No, no, no. La ringrazio. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci.